Marco Crimi, vent'anni, centrocampista, su una partita in campionato, qualche apparizione in Coppa Italia, esordi oggi con il microfono, è la prima intervista che rilascia, perché? Mi hanno detto parla tu, non c'è nessun problema, speriamo di fare bene oggi, vediamo come andrà a finire. Che clima c'è nello spogliatoio? Guarda, c'è un po' di... certo, giustamente dopo cinque sconfitte non è facile, però giustamente stiamo pensando di stare tranquilli, perché soltanto così si può giocare con serenità, si può stare. Cosa vi ha detto Ventura, qualche suggerimento? Le solide cose, come prepariamo durante la settimana anche le altre partite, giustamente anche lui di stare tranquilli, perché soltanto così possiamo giocare. Voi un po' di tensione la sentite prima della gara? Quella giusta, perché non è facile, come punto cinque sconfitte di fila, un po' non è facile, però piano piano riusciremo a trovare il gioco che sappiamo fare. Grazie.